... Incidente nella serata di venerdì 18 marzo intorno alle 20 in via Valperga a San Ponso, quasi al confine con il territorio di Busano. Una Ford ha investito un cinghiale ed è uscita di strada andando a schientarsi contro un pallo del telefono. Sul posto sono intervenuti la croce bianca del Canavese e i vigili del fuoco di Rivarolo. Il conducente, uscito da solo dalla vettura, è stato subito a soccorso. Dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Ciriè, fortunatamente solo con qualche contusione. Il cinghiale è deceduto. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Quarnier. Grazie. 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 Grazie.